Non riesco a rio, non riesco a parlare Nooo, raga Wow, 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 wow E adesso come cavoletti di Bruxelles lo faccio io Yolanda, sweet Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video Come state? Spero tutto bene, come avete passato questa giornata? Spero bene Buon martedì, come state passando le vostre giornate in casa? Spero che voi comunque state facendo cose, tante cose anche in casa Io per esempio sto cucinando dolci, sto registrando tanti video, sto montando per voi Sto facendo cose, tante per voi Voi cosa state facendo? Fatemelo sapere sotto in un commento Prima di iniziare questo video che già avete capito di cosa si tratta Mettete un bellissimo pollice in su Iscrivetevi al canale, ovviamente attivando la campanella Per ricevere tutte le notifiche e per rispondere ai miei giochini Oggi facciamo un nuovo gioco, ma proprio nuovo nuovo Perché oggi andiamo a fare un Indovina l'immagine, però indovina la persona In che senso? Vi metterò la foto di una persona famosa Qui tutta sfocata, voi mi dovete indovinare sotto in un commento Che personaggio famoso è Va bene? 3, 2, 1 Vai! Indovinate la persona famosa che vi metto qui nella foto Mi raccomando, è uno youtuber Vi dico solo questo È uno youtuber molto famoso e molto conosciuto in Italia Quindi indovinate Allora, cosa facciamo oggi? Questo pacco è un miracolo che io ce l'abbia Perché mi è arrivato dopo 5 mesi Ragazzi, 5 mesi! Vi rendete conto cosa significa? Questo pacco è di Scented by Emy Ed è uno shop famoso di Instagram Quindi una slimer di Instagram molto famosa Allora, mi ha messo due card con addensanti e due candy cane Che meraviglia Questo è il suo shop Scented by Emy Le card sono bellissime ragazzi Poi mi ha messo un bracciale tutto rainbow Scented by Emy Avevo comprato Avevo comprato a lei anche due essenze che ho già usato Le ho tolte dal pacco Infatti mi hanno sporcato tantissimo il pacco Allora, sto pacco è stato fermato alla Dogana Per più di 3 mesi 3 mesi alla Dogana di Milano Prima che succedesse questo fatto di sta cosa Della quarantena Perché praticamente Dicevano che c'era praticamente del cibo dentro Ma quale cibo? C'erano solo delle essenze degli slime Ma qua cibo Cioè ragazzi Allora ho preso 3 slime Da lei Che sono uno più bello dell'altro OMG C'è un altro bracciale Adorello E Tutte queste cose qua Ok, nello scatolo non c'è più niente Sono 3 slime Sentite Un campanaccio Adoro 3 slime con 3 cose fatte in clay Allora sicuramente penso che siano sciolti Come se non ci fosse un domani Però vabbè Noi vediamo Che bella sta scatolina Come professional Questa scatolina piccolina piccolina Poi vediamo qua cosa c'è Questo non l'ho visto Ah sì ok La pallina di gelato Guardate che carina Allora Corrispettivamente gli slime sono così Sono 3 slime Abbiamo il cotton candy ice cream Con la sua pallina di gelato Poi Abbiamo Legnog Cheesecake Legnog Praticamente È Una cosa licorosa Fatta con l'uovo È un Come posso spiegare Una bevanda che si beve Una bevanda che si beve Ah ah Yolanda come sei simpi Una cosa che si beve In America Soprattutto nel periodo natalizio Ed è a base d'uovo È zabaglione Ecco Non mi viene il termine Zabaglione Zabaglione Non riesco a rio Non riesco a parlare È zabaglione Licoroso Basta L'hanno capito Poi questo qua È il candy cane Bark Praticamente sono queste barrette Che meraviglia Sembrano vere Che fame Però cos'è fatta con la Cioè ecco No raga oggi non riesco a parlare È fatto con Con la clay Comunque Io adorello Allora Io inizio a Spacchettare questo Allora Non so da quale partire Apriamone uno Iniziamo da questo Oddio che Iniziamo dal cotton candy Ice cream Mettiamo da parte questi E Eh ragazzi Penso che sia normale No Che sia Sciolto Allora Prendiamo l'addensante Questo qua Che mi è uscito Da un altro Pacco di slime Lo andiamo a mettere Nello slime Però Per essere degli slime Lecchi di 5 mesi Devo dire che Non sono neanche Tanto sciolti Cioè nel senso Pensavo peggio Lo slime Ha un profumo Buonissimo Lo vado a spruzzare così Che bello Questa cosa Nello spruzzino Andiamo a spruzzare Lo slime Di regola Dovrebbe Unirsi Allo slime Questo Che è praticamente Una specie di pallina Di gelato Fatta con la clay Speriamo solamente Che non si sia Indurita Spero solo questo Perché essendo clay Penso d'Iso Credo che si sia indurita Tantissimo Ragazzi Allora Nonostante sia Un po' appiccicoso Perché è normalissimo Cavolo Sono slime vecchi Di 5 mesi Che mi sono arrivati Praticamente dopo 5 mesi Che li ho ordinati Penso che sia normale Non è stato un problema Dell'ordine Perché mi dovevano arrivare In realtà In una settimana Mi è stato un problema Di dogana Purtroppo Allora Lo slime È meraviglioso Oh mio dio Allora Profuma tantissimo Di zucchero filato Di cotton candy E di vaniglia Di gelato Vediamo se c'è scritto No Non c'è scritto L'essenza vicino Però raga Lo slime È bellissimo Molto elastico Morbido Scoppiettante All'interno Ci sono palline rosa Palline azzurre E viola No Solo palline rosa E palline azzurre Comunque È davvero Molto Molto bello Andiamo a vedere La pallina di gelato Vediamo Oddio No ragazzi È durissima No Raga Raga È dura Com'è che Vabbè Raga È normale C'è Questo è impossibile Andare a recuperare Anche se ci potevo aggiungere La pallina in clay Vabbè Pazienza L'importante È che Questi Siano fatti bene Con un po' di addensanti Si siano aggiustati Questa è la cosa Che Non mi rammarica È l'unica cosa Che non mi rammarica Però Mi sarebbe piaciuto Aggiungere la pallina Allo slime È molto glossy Questa è l'unica cosa Che mi piace molto Poi Vediamo L'egnog Ho paura Che anche questo Sia Ah no Questo no Attenzione Non lo so Vabbè Vediamo Questo Vediamo Questo com'è Oh ma forse no Oddio Oh mio dio Ragazzi Profuma Un botto Non so Il profumo Di eggnog Che profumo Sia Però Aggiungiamo Questo sopra Come se fosse La whipped cream Quindi la La crema Sopra Vedi Ah sì sì Scent eggnog Cheesecake Quindi profuma Di eggnog Cioè di questo Liquore all'uovo È di cheesecake E la texture È uno sleigh Crunch Vediamo Wow OMG ragazzi OMG Questo non si è sciolto Tanto eh Vi devo dire Allora dentro C'è Un crunch Infatti C'è il fitz Questo qua Dell'egnog Non si è sciolto Cioè non si C'è Yolanda Vai Non si è indurito Anzi L'ho aggiunto All'interno Senza problemi Aggiungiamo anche Andiamo a prelevare Questi glitter Che ci sono Qua dentro Molto molto belli Wow Raga Ok Questo slime È bellissimo È un clay Quindi c'è un po' Di clay all'interno Credo ovviamente La Daiso Dentro Questo se ci si gioca Ovviamente Si gonfia Tantissimo E all'interno Abbiamo dei pezzettini Penso di Fizz Il fizz Quello là Americano Quindi è un butterfizz Più o meno Con profumo Di cheesecake Al liquore Credo Con dei glitter Marroncini E così Dei glitter marroni Per ricordare Il liquore Eggnog Wow Mi piace un botto Però non scoppietta Come l'altro Perché ovviamente Avendo una Consistenza Un po' più Battery E un po' più morbida Non scoppietta Come l'altro Però wow È veramente Molto bello Al tatto Ragazzi Molto morbido Anche Crunchy Non tanto Perché più crunch L'altro Probabilmente No È molto più Morbido Questo Vediamo se si è Wow 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 E adesso Come cavoletti Bruxelles Faccio io Si è ingrossato Un botto Ragazzi Vabbè Lo teniamo lì Lo mettiamo in disparte Vediamo un pochettino Questo Che Mamma mia ragazzi Candy cane bark Cioè È una cosa di Natale Però Vabbè Pazienza Vediamo Ma cosa sto toccando Oh mio dio Allora Uh che buon profumo Allora profumo di Cioccolato a menta Cioccolato in menta Allora Cosa c'è dentro C'è pure la neve Sì OMG Allora Io ho paura Che anche questo qua Sia duro come la pietra Andiamo a prendere E vedere Queste barrettine Che sono cioccolato Wow ragazzi Duro Cioè si spezza Guardate Che peccato Addirittura pure questo Profumava ragazzi Che peccato Erano fatte talmente Con tanta cura Colpa delle dogane Grazie dogane Come sempre Viva l'Italia Che Sempre 30 mila anni Quando devono arrivare I pacchi dall'america Che ne parliamo a fare Che ne parliamo a fare E questo pacco Mi doveva arrivare Stesso a dicembre Che ci dovevo fare il video Per Natale Cioè Guardate qua È diventato Una gomma Praticamente Una gomma Lo slime È Di una texture Molto morbida Molto setosa Anche abbastanza clay Perché dentro Penso ci sia la clay Ovviamente con base americana E c'è anche della neve Vediamo Sì ragazzi Dentro c'è la neve Si vede ad un miglio di distanza Però non ce n'è tantissima Ce n'è poca Perché Non è snow Ma non è neanche super clay Quindi Veramente molto bello Ed ha un profumo Inebriante Comunque Questi sono gli slime Di Scented by Emy Sono molto contenta Di averli aperti Finalmente dopo 5 mesi E niente Spero che anche a voi Siano piaciuti Fatemi sapere Qual è stato il vostro preferito Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto Ovviamente che vi abbia intrattenuto E strappato un sorriso Io vi voglio tanto bene Vi mando un bacio Fortissimo Un abbraccio virtuale E noi come sempre Ci vediamo domani Alle 14.30 Con un nuovo video Bye